Un applauso, grazie! Ha partecipato a tantissime manifestazioni, è scritta alla NGTA Italia, e le rivee oltre ad essere coordinate da un'esempio di Spagna a Cala di Ressire, e poi c'è un'occasione specifica dei tecnici nazionali della federazione. Facciamo un applauso per il maggiore di White Power. Spagna a Cala di Ressire 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.